Buonasera. Ceppastor si indigna, ma lo fa rimanendo nei binari della correttezza. Certo, non rinunciando a una satira feroce e sferzante, ma coerente allo stile ceppa. Allora, ecco che vi proponiamo il catalogo di alcune t-shirts di feroce protesta, che sono disponibili presso i nostri punti Ceppastor e qui sul sito ceppastor.com. Ecco la prima proposta, con uno strillo che viene proprio dal fanciullo, che è in noi. Ed ecco. No, non dormiamo, non facciamo la siesta. E qui si va sul pesante. Occhio che rischi di rimanere da sola se noi ci indigniamo. E certe scelte non si fanno, non so. E che non si faccia poi il giochetto di tirare il sasso e nascondere la mano. Che poi magari uno prende dei provvedimenti, che hanno poi degli effetti devastanti e poi non si sa più come tornare indietro. E' una vera odissea per noi lavoratori. Caro ministro. Tutti ce l'hanno con me perché sono piccolo e nero. E' dal cuore bandistico della nostra indignazione circense che viene questo sturro di protesta. E adesso qui andiamo giù proprio pesanti. Com'è? Non c'è più. Ecco qua. E' perché qui i creativi di C'è Pastor, non è che vengono giù dal dalpero. Allora, tutte queste meravigliose magliette sono disponibili, come vi dicevo, nei nostri punti C'è Pastor. Possono essere acquistati online oppure chiamando il numero in sovrimprezione. Al costo di 5 euro più le spese di spedizione, la tassa sulla spesa di spedizione, la tassa sul davanti, la tassa sul dietro, la tassa sulla manica sinistra, la tassa sulla manica destra, la tassa sul collo, la tassa sulle scritte, la tassa sulla taglia, la taglia sulla tassa e tutto questo appunto per 4,99 euro. Ecco, buoni acquisti e buonasera.